Questa mattina su Penelope tutta musica, stiamo nel Golfo del Leone cercando di isolire questo nord per arrivare a Porquerolle. Ecco gli effetti della notte tutta di bolina. Ora il vento è un po' sceso e anche l'onda. Il Golfo del Leone teniamo dentro va, sicuro. Il Golfo del Leone